Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensione e aggiornamenti. In questo video parliamo di bonus da 150 euro in quanto alcuni soggetti potrebbero vederselo pagare solo nel mese di Natale. Vediamo insieme chi rischia e perché nel breve video che segue. Prima di visionare il video, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Inizialmente si pensava che il bonus 150 euro in arrivo con il decreto aiutiter dovesse arrivare nelle buste paga dei beneficiari nel mese di novembre 2022. Tuttavia potrebbe slittare addirittura a dicembre per i lavoratori dipendenti. Il problema che potrebbe portare allo slittamento ha a che fare con i parametri di accesso all'incentivo come informa money.it. Il decreto aiutiter definisce che possono beneficiare del bonus 150 euro solo coloro che registreranno un reddito mensile a novembre non superiore ai 1538 euro. I datori di lavoro non potranno basarsi sui dati pregressi come invece è avvenuto per il bonus da 200 euro ma dovranno contare solo sui documenti in relazione al mese in corso. Un altro problema che potrebbe portare allo slittamento del bonus è legato alla consegna dell'autocertificazione ai datori di lavoro. Infatti tutti i tempi per produrre i modelli e poi raccoglierli potrebbero essere assai lunghi. Invece ricordiamo infine che i primi a riceverlo a novembre saranno i percettori di reddito di cittadinanza, sussidi di disoccupazione oltre che i pensionati e i vari assegni di previdenza. Bene e anche per oggi è tutto se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione al prossimo video e un saluto a tutti.